Alleluia! Amene! Life in the Spirit! You need to know the truth of the Gospel! Amene! Hai bisogno di capire, di conoscere la verità del Vangelo. Ecco perché noi parliamo di Cristo in ogni luogo. Perché in ogni luogo c'è bisogno di salvezza. Il suo nome è pieno di cattiveria, peccata, guerre, crimini, delinquenza, immoralità, corruzione, perversione. Ma Gesù è venuto a salvare i perduti. Alleluia! Alleluia! Gesù è venuto a salvare la tua anima. Alleluia! Alleluia! Gesù dice io sono la via. Alleluia! La verità è la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Perciò l'unica via che ci porta in cielo, in paradiso. L'unica via, alleluia, è Gesù. Non ci sono altre vie, né lo yoga, né lo parapsicologia, né Buddha, né Baometto, né il sacco della chiesa romana. Nessun'altra via esiste per il regno della gloria di Dio. L'unica via è Gesù che morì sulla croce per noi, per me e per te, per ognuno di noi che eravamo pecore smarrite nelle tenebre, nei lacci del diavolo. Perché il diavolo esiste, attenzione, non è una favola. È il diavolo che porta un uomo a rubare. È il diavolo che porta un giovane a drogarsi. È il diavolo che trascina una persona a suicidarsi. È il diavolo che porta una donna a fare un aborto, un omicidio. Guardate cosa fanno le persone. È il diavolo. Uccidono un bambino nel loro grembo. L'aborto. E tanti altri peccati. Adulteri. Delinquenza. Uomini con uomini, donne con donne. Quello è peccato pure. E' il diavolo che fa queste cose nella mente dell'uomo. Che porta un uomo a rubare, a uccidere. È Satana. Ma la Bibbia dice, questa sera abbiamo una buona notizia. La Bibbia dice che Cristo Gesù, Alleluia, il figlio di Dio, è venuto nel mondo per distruggere le opere del diavolo. E per dare la libertà nei nostri cuori. Alleluia. Conoscerete la verità. La verità vi farà liberi. La verità è Gesù. Giovani, ragazzi, leggete il Vangelo. Non perdere la tua vita nelle cose sbagliate, nei discorsi sbagliati. Non seguire la corrente del peccato. Questa vita è passeggera. La cosa più importante, Alleluia, è conoscere il Cristo. Poco perché noi siamo predicatori del Vangelo, siamo evangelisti che predicano, Alleluia, il nome del Signore in ogni luogo. Anche qui a Napoli. Vabbè, non mi fa capire. 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 Genova, La Spezia, Torino, Milano, nelle regioni del nord, ma adesso siamo qui a predicare con i fratelli di Napoli. Amen. Perché Gesù vuole illuminare il tuo cuore. Questa sera, Amen, è una serata di speranza se tu credi in Cristo. Gesù può cancellare tutti i tuoi peccati, i tuoi errori, i tuoi sbagli che hai fatto nella vita, quei peccati che hanno portato cattive conseguenze. Perché il peccato porta cattive conseguenze. E se non ci pentiamo, se non ci rabbediamo, il peccato porterà alla morte e alla perdizione eterna. Alleluia. Perciò questa sera vi vogliamo dire Gesù è la tua speranza. Amen. Gesù è la tua salvezza. Gesù è la nostra. Vittoria. Aggrappati a Lui. Perché ancora oggi il messaggio della croce di Cristo può salvarti, guarirti, perdonarti. Anche se tu hai una malattia, ti hanno diagnosticato una brutta malattia. Perché oggi le brutte malattie vanno di moda. Quanta gente ha tumori, cancri, oppure anche le paure, le fobie, le depressioni. Ma Gesù. Amen. Amen. Il re della gloria, il figlio di Dio, il potente Messia, può spezzare la catena della malattia, della maledizione, del vizio, della droga, dell'alcol. Quante persone, che nessuno si arrabbi con me. Io quando ero nel nord predicavo lì a Genova, Torino, la spezia, c'erano persone, avvocati, gente di una posizione elevata, gente studiosa, ma dietro, sotto sotto, erano schiavi della droga, dell'eroina, cocaina, perché quello è un laccio del diavolo. Ma Gesù ti può liberare. Amen. Gesù conosce le tue sofferenze. Gloria. Alleluia. Chiama Gesù. Chiama Gesù. Amen. Pide la ayuda a Gesù. Usted también, che hable espanol, castellano. Busquen al Signor Gesù, che vuole iluminar vuestri corzoni, con la luz del Evangelio, alleluia, del Espiritu Santo, perché Cristo vino a libertare a romper a los cautivos, a romper las cadenas de la maldade, porque dice la palabra de Dios, hay un reino en los cielos. Alleluia. Y para llegar al reino de los cielos, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amen. Entrégale tu corazón al Señor en esta noche. No es una casualidad si aquí en Nápoles estás escuchando la palabra del Señor. Amen. No es una casualidad. Querida señora, querida mujer o querido hombre, estás ahí. Cristo vuole salvarlo. ¿Están en español? Sí, sí, dono para los cielos. Señor bendiga mucho. Apri el tuyo cuore a Cristo y un día Cristo te abrirá la puerta del cielo. Amen. Y te dirá entra en la gloria del Padre. Agrappati a Jesús. Amén. Cambierá la tuya vida, la tuya historia, el tuyo destino, el tuyo futuro. Amen. Alleluia. Chiama a Jesús, leggi il Vangelo e parla con Lui e Lui ti risponderá. Amen. Dio ci benedica, Cristo vive, alleluia. Dio vi benedica a tutti quanti. Si mette por favor para la gloria. Si mette por favor. Si mette por favor. Si mette por favor. Si mette por favor.